sono a casa con lara ho preparato le linguine al pesto fatto da me e i fiori di zucca fritti perché so che le piacciono abbiamo pranzato in cucina e dopo ci siamo spostate in sala che è anche la mia camera da letto ma è grande e ci sta tutto le ho fatto vedere come ho pitturato la finestra di giallo crema e le tende che ho montato le ho fatte io con un tessuto che ho trovato in cantina anche il copridivano l'ho cucito io lara lo guarda e mi dice che ne vuole uno anche per lei così il gatto non le rovinerà più il divano ma io le dico di no che non ho tempo e lei me lo chiede di nuovo su dai mi dice quando usciamo andiamo a scegliere il tessuto insieme allora le spiego cosa intendo quando dica che non ho tempo laura studia e lavora nella ditta di suo suocero con il marito e va bene così se tutti e due volessero mettersi a far niente da un giorno all'altro potrebbero farlo quelli della cooperativa mi hanno ridotto le ore le dico io non faccio la vittima e queste cose le tengo per me ma se qualcuno me le chiede viene l'acconto non è fare la vittima questo e adesso come fai a cavartela mi chiede allora mi viene proprio la voglia di spiegargelo come ci riesco e le faccio l'elenco di tutti i lavori che ho in questo momento dove per chi e per quante ore ogni giorno il sabato sono fissa al negozio di animali dalla mattina alla sera ma la titolare mi paga solo se la giornata è andata bene come se dipendesse da me se la giornata va bene o no i bambini intanto sono saliti a due uno lo tengo il sabato sera l'altro la domenica sera i loro genitori vogliono uscire e a me torna bene così e poi ci sono le ore delle pulizie che variano di mese in mese e così ce la fai mi chiede lo so che ci tiene a me perché lo so anche se lei lavora dal suocero e lavora per modo di dire ce la faccio per forza le dico e non sa cosa vuol dire farcela per forza allora la riporto in cucina le faccio vedere lo schema che ho appeso al frigorifero mica l'aveva visto prima lei lo guarda e io le dico è uno schema che cambia di continuo le spiego che se mi danno meno ore alla ditta di pulizie lo schema cambia il numero scritto nel riquadro che sono i soldi che prendo cambia e quando mi danno da tenere un bimbo in più o in meno lo schema cambia di nuovo e cambia anche se mi chiedono di fare più o meno ore di pulizia durante la settimana ma alla fine del mese il minimo che c'è scritto in fondo al foglio deve tornare in un modo o nell'altro lei lo fissa e dice oh magari pensa che lei neanche sa quanto spende ogni mese altro che schema altro che minimo ma intanto oggi è venuta a casa mia e ha visto quanto la tengo bene che ha pure la finestra della camera pitturata di nuovo con le tende in tinta giallo ambra e lei non ci credeva che ho fatto tutto da sola torniamo in camera e ci sediamo sul divano mi dice chiedi i soldi a giovanni dice così perché lei a suo marito gli chiederebbe allora le dico che dal mio ex marito non voglio niente nessuno mi può dire che gli devo qualcosa né per la casa né per nient'altro che da quando ci siamo lasciati e son già due anni non gli ho mai chiesto niente le dico che lei dovrebbe conoscermi che piuttosto non mangio lavoro pago l'affitto metto da parte qualcosa ogni volta che ci riesco e non chiedo niente a nessuno e lei mi dice ma come se ti spettano lo ha detto anche il giudice e continua non ne avessi bisogno mi dice ma invece ti farebbero comodo certo chi ha ragione mi farebbero davvero comodo ma riesco a incastrare tutto e a spendere poco e Lara lo sa anche il tubo del lavandino ho riparato in bagno tutto da sola e le dico anche questo quello che mi frega sono i ritardi quando la gente mi dice poi facciamo i conti te li do alla fine oppure te li do quando posso dico a Lara che da Giovanni non voglio niente cerco di essere chiara che non tiri fuori questa storia un'altra volta piuttosto vado a battere le dico ma lei tira fuori il suo problema col gatto che le piscia sul pavimento di legno non so come tira fuori quello e allora perdo il filo e quando la seguo di nuovo la sento dire che il legno del suo pavimento non si trova più di quelle dimensioni è un bel problema dice e io penso che se la conoscessi ora Lara forse non diventeremmo amiche ma la conosco da sempre e allora è diverso le chiedo se si ricorda quando andavamo al mare insieme lei aveva il sedere più bello della spiaggia e io le tette più belle della spiaggia qualche volta andavamo giù al fiume ed era bello anche lì ci andavamo col motorino di mia sorella in due provo a parlarle di quello ma lei tira di nuovo fuori il mio ex marito ripensaci un po mi dice magari solo per qualche tempo lascia perdere le dico io ti faccio il caffè e intanto mi alzo e vado a farglielo lei mi segue e quando entriamo in cucina il sole illumina il tavolo e si riflette sui fornelli si è fatta quasi estate e per un attimo mi fa rabbia pensare che andrò al mare quanti giorni una manciata se mi va bene è in quel momento che decido di raccontarle una cosa che non le ho mai detto non l'ho mai detta a nessuno c'era stato un periodo ai tempi del call center sarò stata sposata con giovanni da cinque o sei anni in cui il lavoro mi pesava più che adesso stavo al commerciale e avevo come capo del personale la marini te la ricordi la marini chiedo a lara lei mi fa due occhi per dirmi che se la ricorda e come gliene avevo raccontate di cose su di lei che poi era stata la marini a decidere di mandarmi via comunque stavo al commerciale e lì dovevamo vendere contratti non come al supporto tecnico dove la gente chiama per risolvere problemi ma per te fa lo stesso se glieli risolvi o meno tu stai ad ascoltare e basta al commerciale invece dovevamo chiamare noi e dovevamo vendere io avevo superato il mio periodo di crisi quello lo avevo avuto all'inizio e mi era durato parecchio sei mesi almeno in cui tornavo a casa e piangevo perché mi sembrava impossibile usare quel maledetto programma e convincere la gente a comprare ogni mese dovevo convincerne almeno dieci se no ero fuori il mio periodo di crisi lo avevo superato e non so quante vendite avessi già fatto quel mese un giorno verso la metà del mio turno ho fatto un'altra telefonata e mi ha risposto un uomo che mi ha salutato poi ha ascoltato quello che avevo da dirgli e infine mi ha detto va bene lo faccio se a lei può servire a qualcosa era una persona educata credimi l'ho capito subito uno di quelli come ce ne sono pochi e parlava bene con un tono di voce tranquillo educato e tranquillo sai come come uno che non ha fretta che è una cosa molto rara da trovare per chi sta al telefono a disturbare la gente mentre fa chissà cosa a casa propria o sul lavoro insomma mi ha colpito quella risposta era una cosa strana allora gli ho detto bene poi l'ho ringraziato e mi sono messa a chiedergli le solite cose che chiediamo a tutti credimi mi parlava come ci parliamo io e te al telefono no è diverso ma voglio dire non era come succede di solito che dall'altra parte neanche mi ascoltano o buttano giù all'improvviso o le cose me le dicono ma intanto fanno altro lui mi dava l'impressione di essere lì capisci dall'altra parte della cornetta mentre mi parlava poi non ti ho detto che mi dava del lei non succedeva mai che mi dessero del lei ma lui sì e guarda era tanto educato e garbato ti stava provando mi dice l'ara ma io le dico che non era così per niente e allora continuo a raccontarle la mia storia le dico ogni cosa che gli chiedevo lui mi raccontava qualcosa di sé o qualcosa in generale sapeva un sacco di cose ed era bello ascoltarlo sarei stata al telefono con quel uomo per ore ma non potevo la marini mi ronzava intorno mentre l'uomo al telefono faceva certe pause che non ha idea sembrava che gli servissero per scegliere le parole da dire ma non era un'angoscia aspettare che parlasse anzi mi metteva un gran senso di pace ed era l'opposto del clima che respiravo lì dentro mi ha pure detto come per giustificarsi d'altra parte noi siamo le parole che diciamo così mi ha detto quando ho finito di raccogliere i dati e dovevo fare solo la registrazione sai la lettura del contratto che facciamo alla fine gli ho chiesto se aveva capito tutto e se gli stava bene allora lui si è preso la solita pausa e mi ha ringraziato di avermelo chiesto pensa e alla fine mi ha detto ma certo lo faccio volentieri se lei ne otterrà un beneficio certo gli ho detto io e come così gli ho spiegato che se non chiudevamo dieci contratti a settimana eravamo fuori e quel lavoro mi serviva ne avrei detto qualunque cosa te lo giuro non puoi capire dara mi dice che bel tipo deve essere stato lo hai conosciuto dopo la telefonata intendo ma che le dico aspetta lui mi ha detto allora facciamolo registri e io ho aggiunto poi la saluterò e lui registriamo e poi la saluterò anch'io lo sa mi ha detto l'uomo senta bene lara mi ha detto sarà l'ultima cosa che faccio così ha detto e io ho pensato che intendesse l'ultima cosa prima di andarsene a casa o in ferie o prima di uscire con un amico o che so io e invece mi ha detto la saluterò come si fa l'ultima cosa prima di farla finita oddio dice lara e si raddrizza sul divano continua mi dice e allora le dico se è subito scusato pensa mi ha detto mi scusi la prego non avevo intenzione di spaventarla l'altra parte devo ammettere che mi ha scappato di dirgelo io gli ho chiesto se stesse scherzando anche se avevo capito che non scherzava non avrebbe mai scherzato su una cosa del genere una persona così è stato allora che mi ha detto che lo aveva deciso da tempo e poi mi ha detto lo sa qual è stata la cosa più difficile mentre ci pensavo lui mi ha detto è stato decidere l'ultimo libro da leggere l'ultimo film da vedere l'ultimo posto dove andare e l'ultima persona da salutare tutte cose che mi può credere prima di decidere di ammazzarmi per me contavano poco tutto sommato e poi mi ha detto certo non immaginavo che l'ultima cosa sarebbe stata conoscere una persona al telefono e stipulare con lei un contratto di luce e gas non ne abbia male la prego mi ha detto proprio così la prego era la persona più educata con cui avessi mai parlato in vita mia la sua non era una forzatura vedi non era come quelli che ti parlano con la voce affettata e lo senti che dicono certe cose solo perché un attimo dopo devono chiederti se fai una cosa per loro lui era educato e basta con quel suo modo lara mi dice io mi sarei presa una paura boia e io ce l'avevo le dico ma lui no e questa cosa mi faceva stare bene e male nello stesso tempo era una tale serenità nelle sue parole ora mi chiedo se era davvero serenità o qualcos'altro però la telefonata si allungava e la marini te l'ho detto che ti paè basta vederla mi è passata a fianco e mi ha fatto segno di chiudere io le ho fatto vedere che avevo a monitor la schermata del contratto ma lei mi ha fatto segno di tagliare corto comunque ero a 20 minuti e le telefonate più di 15 secondo lei non dovevano durare va avanti mi dice lara poi si è sparato o cosa mi chiede io le dico che non lo so se si è ammazzato e come lo ha fatto però dopo la registrazione dopo che abbiamo registrato il contratto non ho chiuso la telefonata non me la sono sentita e lui mi ha detto dell'altro la cosa più bella dico a lara e le verso il caffè che intanto è uscito da un bel po lo verso anche per me e davanti agli occhi mi viene la faccia di quell'uomo che non ho la minima idea se sia davvero la sua ma per qualche ragione me la immagino così un uomo come dovrebbe essere un uomo con quella sua voce e quel suo modo di fare e di parlare ma potrebbe anche non essere affatto così come questa faccia che ho davanti agli occhi questo non lo dico a lara ed ho un sorso al mio caffè continua mi dice lei e lo so che si immagina chissà che e per un attimo mi viene voglia di non dirle altro ma poi le dico la storia che quell'uomo mi ha raccontato avevano avuto un problema lui e sua moglie e saranno messi di mezzo i servizi sociali fatto sta che lui non vedeva suo figlio da anni cioè lo vedeva una volta ogni due settimane ma solo alla presenza di un educatore per due ore ogni volta in una stanza oppure al parco comunale così mi ha detto e dopo qualche tempo di questi incontri suo figlio neanche più lo voleva vedere urlava e strillava e si agitava quando veniva l'ora di andare da lui e dall'educatore così gli diceva la sua ex moglie e lui le credeva mi ha detto alla luce di numerosi episodi che si erano verificati avevo smesso di considerare la mia consorte una persona affidabile ma quando mi ha detto questa cosa di nostro figlio le ho creduto e ho smesso di vederlo così mi ha detto pover'uomo mi dice Lara già mi ha detto che questo era successo un anno prima più o meno e che da quel giorno si era messo a ristrutturare una vecchia automobile che teneva in garage mi ha detto il maggiorone bianco con cui io e mia moglie siamo convolati a nozze convolati ripete Lara consorte e convolati capisci le dico io avevo la marini che girava intorno alla mia postazione e continuava a farmi segno di tagliare dall'altra parte avevo quest'uomo che mi raccontava una cosa del genere e che poi si sarebbe ammazzato mi ha detto che ci ha impegnato un anno intero a sistemare la macchina e che ha fatto tutto da solo lui che di motori non ci aveva mai capito niente che aveva lavorato nella ristorazione e in tanti altri settori ma a chi di manualità ne aveva ben poca lo ha rimesso a posto per suo figlio mi ha detto ti giuro che il tempo per me non aveva più un senso dico Lara ero divisa in due ma sai una cosa a quel punto del contratto che avevo chiuso mi fregava ben poco e anche della marini da una parte c'era lei che mi gesticolava davanti e dall'altra quest'uomo che mi raccontava di una sera in cui lui e sua moglie durante il viaggio di nozze videro un gruppo di ragazzini che tormentavano un porcospino su un ramo sai come sono crudeli a una certa età dico a Lara e non so se stia ancora seguendo quello che dico poi uno di questi ragazzini si era fatto avanti e aveva proposto di dare il porcospino impasto al suo cane allora gli altri si erano eccitati e si stavano organizzando per catturarlo ma lui e sua moglie erano intervenuti avevano tirato su il porcospino con due asciugamani messi uno sull'altro e lo avevano caricato in auto era sera mi ha detto e i fari del maggiolone illuminavano appena le strade che percorrevano lui ha usato delle parole diverse dalle mie vorrei saperle ripetere uguali quando me lo ha descritto ho pensato che bello ho immaginato loro due su quel vecchio maggiolone lungo stradine tortuose dell'entroterra sardo con questo porcospino sul sedile posteriore avviluppato negli asciugamani e il suono di quel vecchio motore mi ha detto che erano andati avanti per chilometri fino a quando avevano trovato un posto che pareva giusto per farci stare il porcospino una zona verde isolata dalla strada principale senza casa in vista senza pericoli ma anche questo posto avessi sentito come lui me l'ha descritto insomma mi dice lara ha finito di ristrutturare la macchina per poi ammazzarsi io le dico sì perché è così anche se mi sembra poco a dirla in questo modo e aggiungo mi ha detto che l'idea di ammazzarsi gli era venuta proprio quando era nel mezzo della ristrutturazione quando non sapeva neanche se l'avrebbe portata fino in fondo un anno di lavoro e 20 chili mi ha detto 20 sono tanti mi dice lara deve essere stato parecchio grasso il tuo uomo a me da fastidio che lo chiami il mio uomo ma grasso deve esserlo stato per davvero mi ha anche detto così faranno meno fatica a occuparsi del mio corpo lara beve il caffè e tiene la tazzina stretta in mano e poi mi chiede poi le dico si è scusato di nuovo per avermi turbata mi ha detto che per lui era stato un piacere e mi ha salutato io sono scoppiata in lacrime lì come ero seduta alla mia postazione con le cuffie e gli occhiali ho iniziato a singhiozzare e poi a piangere non ci pensi mi ha detto lui prima di buttare giù ora non ci pensi più il contratto lo abbiamo fatto mi ha detto siamo a posto no è finito mi ha chiesto mi si erano messi intorno la marini e gabriele quello che lavorava accanto a me sai che per lui ogni occasione era buona per non fare niente e io gli ho detto fatto e lui mi ha detto bene uno di più e poi ha detto cos'altro siamo poi si è scusato di nuovo mi ha ripetuto non so quante volte mi scusi ma intanto io non capivo più niente e lui ha aggiunto la saluto perché sto diventando malinconico e pietoso tutto quello che ho cercato di non essere durante la mia vita e ha buttato giù dico a lara e se non sto attenta piango di nuovo finisco anch'io il caffè poi prendo le due tazzine e le metto nel lavandino pulisco sempre i piatti appena finisco di mangiare e da una passata anche ai fornelli non li lascio mai lì per dopo apro l'acqua e dico a volte penso se avrei dovuto chiedergli se potevo fare qualcosa per lui per fargli cambiare idea magari oppure che dovevamo sentirci anche il giorno dopo per il contratto una cosa di questo tipo non me lo avevi mai raccontato mi dice lara no le dico io l'ho detto solo a giovanni quando sono tornata a casa era passato da poco il mio compleanno e giovanni mi aveva regalato un attrezzo per la cucina che non funzionava faceva saltare il quadro elettrico io volevo chiamare il numero verde per l'assistenza o riportarlo al negozio visto che era in garanzia ma lui sai com'è mi aveva detto che voleva aggiustarlo per conto suo così appena ho finito il turno sono tornata a casa ho camminato quasi di corsa per strada te lo immagini come stavo quando sono arrivata giovanni stava dietro a riparare quell'attrezzo mi sono seduta vicino a lui e gli ho raccontato subito quello che mi era successo proprio come l'ho raccontato ora a te un po più alla svelta credo perché sai come lui che dopo due parole pensa subito di aver capito cosa dici e taglia corto e lui mi ha detto guarda che ti prendeva per il culo e nient'altro mica faceva sul serio quel tipo lì per lì ho provato a fargli capire meglio ma lui invece di rispondermi mi ha fatto un'altra domanda vorresti che lo facessi anch'io ti piacerebbe mi ha chiesto e poi si è rimesso a lavorare su quel coso rotto ti rendi conto dico a Lara e aspetto ma lei mi dice tutto qua ti ha fatto molto altro aggiunge e di peggio allora penso che non ha capito non lo so se giovanni mi aveva fatto di peggio magari forse ma se anche fosse non conta non è questo il punto è lei che non capisce qual è il punto come non l'aveva capito lui solo per un attimo penso a quanto cambierebbe il mio schema appeso al frigorifero se mi decidessi a fare come dice Lara se gli chiedessi i soldi che il giudice gli ha detto di darmi basterebbe la metà di quello che ha detto il giudice per far cambiare lo schema e forse anche il frigorifero non sarebbe più lo stesso mi alzo dalla sedia e apro la ghiacciaia prendo il limoncino che ho fatto io lo appoggio sul tavolo davanti a Lara e le chiedo lo voglio assaggiare e lei mi dice certo ma dopo andiamo a scegliere il tessuto per il mio copridivano